buongiorno ragazzi ben ritrovati da quincenzo oggi vi porto una novità in casa yamaha la mt 09 con la trasmissione automatica la mt 09 y a m eccolo qua in tutto il suo splendore colorazione midnight chan questi cerchi a me questo colore non mi fanno impazzire però ce li abbiamo nella dotazione e quindi ce li facciamo andare bene sinceramente non mi fanno proprio impazzire come abbinamento guardatela questa è l mt 09 che vi avevo presentato qualche mese fa vi lascio il collegamento della prova completa non sto qua a ripetervi i dati perché ve li potete vedere durante la prova il motore la telaistica tutta la moto è la stessa cambierà adesso quello che vi vado a raccontare sul discorso del cambio prova è possibile grazie a yamaha house insegrate via castanese 90 di e g motorsport che abbiamo messo a disposizione questo bellissimo mezzo mi raccomando ragazzi iscriviti al canale lasciato subito un like perché arriva ecma tra poco meno di un mese arriveranno altre novità e ve le volete perdere quindi rimanete settorizzati schiacciando iscriviti è gratuito non costa niente è per voi è solo vantaggio andiamocela a vedere bene allora qua abbiamo il noto già noto cp3 di cui non vi vado a dire altro se non vi ricordo comunque i dati di potenza 119 cavalli a 10.000 giri 93 newton metri di coppia a 7.000 giri la moto è grosso modo la stessa con la novità abbiamo in questo caso come potete vedere il selettore di accensione grazie alla chiles qua potrete dimenticarvi di inserire la chiave ve la tenete sempre nel vostro giubbotto nella vostra tascuccia e avete chiuso il discorso con la possibilità di andare a bloccare lo sterzo quando la moto sarà ferma o di farla partire dopo vi farò vedere come grossa novità abbiamo detto il cambio automatico allora ragazzi qua si gioca tutto tra questa zona che è la zona dei selettori dei paddle praticamente per salire e per scendere di marcia e del cambio la trasmissione automatico manuale che è stata praticamente nascosta inserite dietro la bancata dei cilindri aggravio di peso per 2,8 kg quindi di conseguenza la moto arriva a pesare 196 kg con il pieno quindi di fatto non sono avvertibili questi due quasi tre chili perché sono stati poi messi in una posizione più bassa possibile per andare a bilanciare il tutto cosa che non è è stata fatta ad esempio da altre case adesso mi viene da nominare la e-clutch la frizione elettronica di onda che ha praticamente se non ricordo male sul lato destro questo questo apparato che insomma sporge e di fatto va a sbilanciare un po la linea ma probabilmente anche la ripartizione di peso qua non è stato fatto niente di questo la moto come vedete la stessa fatto salvo appunto guardate è sempre bella la firma luminosa fatto salvo che ad un occhio un po più attento beh ragazzi qua manca manca la leva della frizione e la pedivella del cambio cambio rimasto sempre a 6 marce non c'è il quick shifter di terza generazione che abbiamo sulla versione diciamo tradizionale ma vi farò vedere su strada questo cambio davvero multifaccia perché la potrete utilizzare in automatico con due selezioni la D e la D plus che diventerà un attimino più cattiva oppure interamente in manuale con cambiate fulmine perché è vero che non c'è il quick shifter ma Yamaha con la gestione della centralina praticamente ci dà la possibilità di andare ad effettuare delle cambiate rapide con questi paddle che sono davvero al fulmicotone sia in salita che in discesa adesso poi vi darò alla fine di tutto dei consigli sull'utilizzo della moto l'andiamo a provare andiamo a farci un bel giro guardate anche nel posteriore adesso un po ve la faccio vedere perché poi vengo criticato del fatto che mostro sempre più il soggetto ovvero il sottoscritto cosa che non ci tengo a fare però ve la faccio vedere ancora nella sua interessa e torno a ripetere che la colorazione di questi cerchi non mi piace proprio però rimane sempre un mio parere personale noto adesso la targa una ripetizione del 6 che non è roba da niente lo schermo rimane sempre il solito tft da 5 pollici con il quale poi potrete andare a commutare il discorso della trasmissione vedete il d e d plus oppure andando a agire sul questo è il comando della trasmissione automatico o manuale potrete andare a come vedete commutare mt o at poi ovviamente nelle sue declinazioni rimangono come vedete tutte le impostazioni per i vari riding mode che abbiamo già visto quindi che non sto a ripetervi e un'ultima cosa vi vado a ricordare il discorso qua della airbox che è stato preparato e disegnato per creare un flusso sonoro che va a investire diciamo chi guida quindi andando a creare un coinvolgimento maggiore con un sound che è una specie di doppaggio sonoro come l'avevo definito in presentazione detto questo ragazzi adesso ce l'andiamo a vedere su strada vi andò a raccontare quello che sono i pregi anche qualche difetto perché qualche chilometro l'ho fatto e qualcosa non mi è piaciuto ma ve lo vado a raccontare su strada quindi rimanete sintonizzati e godetevi il video bene ragazzi siamo pronti per partire adesso vi faccio vedere un attimino come azionare l'accensione con praticamente il selettore senza avendo quindi il keyless per accendere la moto andiamo a pigiare il freno e andiamo a metterla in moto come vedete è già in prima ci sarà la possibilità anche tenendo premuto il adesso la rimettiamo in marcia il selettore di paddle sul meno di portarla in folle ok quindi adesso andiamo a avviare la marcia siamo in automatico e partiamo abbiamo selezionato in questo caso il siamo sul drive normale quindi sulla la conduzione più tranquilla della nostra il nostro cambio automatico poi andando a premere su mode lo faremo dopo andremo a solletticarla e sollecitarla e portarla sulla drive plus mi fa piacere definire come vedete lei gestisce in tutta tranquillità la cambiata è un cambio adattivo che praticamente prende nota del vostro della vostra produzione e quindi adegua le cambiate al modo in cui starete guidando quel preciso istante nulla vi vieta di passare alla conduzione di intervenire manualmente come in questo caso magari volete fare un sorpasso siete un po' bassi e pigri di giri magari di buttare dentro un paio di marce dopodiché il sistema riprenderà la conduzione in automatico così come è stata impostata adesso ve lo faccio vedere mettiamo giù una marcia fantastico avete sentito buttato su un paio di marce poi con il paddle sono andato a salire anche in questo caso vedete lei frena boom boom direi che molto veloce già anche a queste batalax quanto mi piacciono ragazzi s23 prendete l'olla sentite nonostante ci troviamo in drive adesso andiamo poi a portare in drive plus basta andare a schiacciare il selettore come vedete ha cambiato sentite già ha scalato adesso la istighiamo ecco riprendiamo una conduzione quello che vi dicevo prima in presentazione durante la con questa selezione vedete che adesso lei sta io ho intrapreso una conduzione abbastanza tranquilla lei sta buttando sulle marce per anche per abbassare i consumi e tenerla giù i giri come avete sentito si sono allungate parecchio le cambiate sentite come è pronto si sono allungate le cambiate perché praticamente va su una impostazione più corsaiola questo vi servirà campo di utilizzo quando andate a farvi delle delle belle passeggiate e magari volete godermi un attivino anche la tiratina senza problemi senza indugini allora piccolo neo la trasmissione è un pochino rumorosa il continuo cambio ed è addirittura un po' bruscina quando arriverete in prima magari a una rotonda o un tornante ancora peggio da proprio uno strato adesso vediamo di portarcela no niente non ci siamo arrivati ragazzi il sound del nostro cp3 peccato che il tempo è così c'è anche l'asfalto è leggermente uvito perché sta cercando di piovere da un po' devo dire abbastanza puntuale nella scelta del dei rapporti sentite com'è lunga siamo a 6 mila giri e ancora non aveva cambiato adesso andremo su rettini cambiata molto veloce ovunque sentite ecco ogni tanto strattona io credo che arriverà sicuramente un aggiornamento software del camion e sono sicuro perché a dei momenti in cui ci sono degli strattoni un po' troppo avvertivi taglia molto in maniera più violenta l'alimentazione e non è una roba costante questa è la mia percezione ovviamente però ti riporto quant'è adesso la rimettiamo in in d arriviamo diciamo simuliamo un po' quella che è la guida del tracciato cittadino ecco sentite quando la mette in prima è molto ecco mi viene da pensare ad esempio non è il caso di una rotonda ma mi viene da pensare quando sarete nei pressi di una di un tornante magari anche di quelli proprio bastardi che chiudono proprio a gomito è fatto di arrivare già lì in a velocità bassissima con la pendenza la chiusura della trezza diventa questo 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 quest'ennesimo colpetto potrebbe magari siete lì appena appena che vi tenete perché i tornanti quelli a gomito sono proprio brutti cade un tempo di gente potrebbe magari darvi la spintina per per cadere per terra questa cosa secondo me è da migliorare da utilizzare in questo caso ovviamente in ambito cittadino sicuramente il drive nella posizione sentiti nella posizione più semplice si fa allungare anche lui comunque adesso andiamo a provare in manuale un po di curve mamma mia sta moto ragazzi quanto è bella ecco un paio di scalate adesso sentite quanto è veloce lei riprende ovviamente la sua marcia che ritiene più adatta ecco le ho puntate dentro manualmente ancora adesso manuale portiamo la trasmissione in manuale adesso siamo in manuale ok ragazzi sta cominciando a piovere quindi dobbiamo affrettarci riprendiamo è un giocattolino proprio ragazzi madonna come scala ragazzi quick shifter bye bye davvero non lo fa rimpiangere davvero tremendo come mamma mia cerca anche di alzarsi non me la riportavo fantastica fantastica adesso riprendiamo una conduzione più normale la riportiamo andando a premere il pulsante della trasmissione siamo in automatico ok drive normale ultime curve ecco come vedete proprio non è costante nel nello strappo quando inserisce la prima dipende un po dalla non ho capito ancora in quali condizioni però appunto credo che sia qualcosa che sicuramente potrà essere sistemato senza grossi dire adesso guardate scaliamo perché magari non ci piace la marcia in cui con la quale siamo arrivati vogliamo governare noi l'entrata nella curva e buttiamo giù quello che vogliamo per poi salvo poi riprendere la sua conduzione completamente in automatico adesso ci arrestiamo e facciamo le considerazioni finali vi faccio vedere la rimetto in folle bene ragazzi siamo alle considerazioni finali è terminato il nostro giro con la nostra fantastica mt09 con la trasmissione automatica manuale davvero io mi sono divertito come un pazzo purtroppo non ovviamente non è il luogo adatto sarebbe stato bello poterla testare su una serie di curve un po più probanti un po più belle comunque devo dire che per me è buona la prima rimango dell'avviso che probabilmente in futuro arriverà qualche step perché il cambio per me rimane comunque un ottimo cambio ma ripeto c'è quella quell'innesto un po secco della prima in certi fragenti può essere noioso può dare qualche problema e poi non lo fa in maniera costante quindi deduco che sarà qualcosa che verrà messo a posto prossimamente comunque al 95% secondo me ci siamo la moto è godibile una volta presa confidenza con i padel e davvero sembrerà di giocare la playstation come qualcuno ha detto ci si potrà togliere delle belle soddisfazioni dimenticandosi io mi sono dimenticato della leva del cambio e della io mi sono dimenticato della leva della frizione e di quella del cambio praticamente in tempo zero quindi di fatto è una moto che possono guidare tutti un cambio che verrà messo sugli altri modelli di Yamaha non ho dubbio di crederlo perché è un cambio che è stato creato per poter trovare allungimento su molti modelli quindi di fatto ovviamente sarà in interesse di Yamaha di portarcelo e farcelo vedere anche su altri modelli magari sulle tresse sulla famiglia tresse sulla famiglia tenere e chissà in quale altre ragazzi un saluto vi invito a iscrivervi al canale come sempre seguitemi sempre solo con l'iscrizione al canale che vi dico sempre che è gratuita con un bel like darete supporto alle nostre nostri video per voi sarà il piacere di poterci ritrovare in maniera costante e per noi la possibilità di potervi portare contenuti sempre più nuovi e sempre più freschi un saluto dalla MT09 a MT e da Quincenzo ciao ragazzi